Buonasera, siamo in chiusura, in direttura d'arrivo dell'evento Megatrends for Financial Services di Business International e Fiera Milano Media, evento di gran successo e siamo molto molto lieti di essere riusciti a intervistare il dottor Giorgio Valtolina, Chief Executive Officer di Nuvol. Nuvol è sponsor dell'evento, innanzitutto la ringraziamo di averci concesso questa intervista e inizierei subito col chiederle un po' di parlarci di Nuvol, di cosa vi occupate e soprattutto come mai avete scelto di essere sponsor di questo evento. Grazie. Certamente, grazie a voi intanto per l'opportunità, una breve introduzione solo velocissima per spiegarvi chi è Nuvol. Nuvol è una società ICT italiana, siamo circa una settantina di persone e speriamo un po' come dice il nome Nuvol, la scelta del nome è stata proprio in questa direzione, vogliamo offrire soluzioni innovative in ambito ICT, quindi Nuvol, ovviamente Nuvola italiana e quindi soluzioni nel cloud. Il nome stesso richiama però anche una forte partner che abbiamo con Google Enterprise e quindi oggi eravamo sponsor Nuvol insieme a Google Enterprise per proporre anche al mondo finance soluzioni che noi riteniamo innovative. Effettivamente oggi abbiamo visto come il tema del cloud non è più un tema anche nel mondo finance se andare o non andare sul cloud ma andarci e come andarci, con quali soluzioni, con quale società, con quale sicurezza. Noi riteniamo di aver fatto una scelta tecnologica, di scegliere alcuni partner vincenti in questa iniziativa e i clienti ci stanno dando sempre più ragione. Oggi eravamo con un cliente cattolica assicurazione che ha raccontato la sua esperienza di utilizzo di queste tecnologie. Tecnologie che vanno dal mondo mappe dove sono stati mostrati come si possono fare analisi di rischio sul territorio anche per capire come stipulare polizze ad esempio in base al rischio di dove vive una persona piuttosto che fare analisi di dati direttamente su piattaforma Google Big Data per permettere a tutte le agenzie del mondo assicurativo di cattolica di avere dati in tempo reale sull'andamento delle vendite. Quindi riteniamo di avere delle soluzioni che anche scusatemi nell'ambito finance stanno diventando sempre più interessanti. Da ultimo potrei citarvi anche dei casi molto radicati in ambito bancario di soluzioni Google più tradizionali che riguardano invece l'ambiente del motore di ricerca Google. Google sappiamo tutti è famosissima per il suo ambiente di ricerca, moltissime banche e assicurazioni utilizzano questo motore al proprio interno proprio per cercare informazioni internamente alle proprie normative dei libere documentazioni. Abbiamo però anche nuovi obiettivi, nuovi proposte, nuovi device come ad esempio, scusatemi se... Wow, abbiamo una sorpresa per i nostri... Non sono più questi ma Google sapete ha lanciato anche i Google Glasses ed è una tecnologia che noi cerchiamo di portare avanti non solo per ambito consumer ma soprattutto per ambito enterprise per permettere di sviluppare soluzioni di business che tramite l'utilizzo di Google Glasses permette ad esempio la ripresa e l'identificazione nelle filiali delle banche di malfunzionamenti o segnalazioni di problemi che vengono inviati direttamente al CRM che poi prenderà carico e risolverà il problema identificato. Sono tecnologie ovviamente leggermente più innovative che avranno bisogno in un certo periodo per prendere piede anche in questa realtà ma siamo certi che potrà essere anche questo un futuro. Bellissimo, sembra il futuro proprio. Secondo noi lo è, abbiamo soluzioni più per l'attuale, per il presente, per il breve e medio termine e ovviamente anche un po' più per il futuro avvenire. Complimenti allora e grazie di questa sorpresa. Grazie a voi ancora.